Ecco come si presenta il prodotto, abbiamo una comoda valigetta per il trasporto, all'interno abbiamo la forbice, la batteria, il cavo di collegamento tra la forbice e la batteria e il caricabatterie. Inoltre c'è anche l'imbracatura per l'utilizzo, noi le abbiamo acquistate da AgriEuro e insieme vi danno in regalo il grasso, due paia di guanti e la lametta per arruotare le lame. Allora, per collegare prendiamo la batteria, attacchiamo il cavo, c'ha delle tacche quindi si capisce bene dove entra, dall'altra estremità la forbice, la inseriamo all'interno nella della fodera, poi sull'imbracatura ci sono delle fascette per bloccare il cavo, molto comode, in modo che non ce l'avete a giro, la fodera, poi allora l'accendiamo, mettiamo su ON, aspettiamo due bip, per attivare le forbici facciamo due click sul grilletto e si attivano nella posizione di apertura della lama più grande. Se vogliamo avere un'apertura più piccola, teniamo premuto fino al primo bip, rilasciamo e abbiamo un'apertura più piccola. adesso torniamo in quella più grande, esatto, e possiamo tagliare. una forbice veramente ottima, non ha problemi, diametri fino a 40 mm. un'altra cosa importante è che la forbice ha la lama progressiva, quindi se lasciamo il grilletto questa ritorna subito indietro, quindi un ulteriore dispositivo di sicurezza. facciamo una prova d'uso con la chiusura, con la lama più chiusa, molto veloce. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.